Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Nomere e segno della segna stampa d'Italia che cambia commentata che tutti i giorni alle 10 minuti come ormai saprete a memoria vi tiene compagnia e vi racconta quello che succede nel mondo Allora, nella puntata di oggi parliamo del PIL degli Stati Uniti, dei casi di coronavirus in Germania del caso particolare della Svezia e infine di nuovo di piste ciclabili come ieri però andando a vedere un esempio specifico che è quello di Milano Allora, cominciamo però con una buona notizia perché ieri mattina, attorno a mezzogiorno, 11 e mezzo l'enorme asteroide OR2 1998 è passato vicino alla Terra ma con grossa sorpresa ha proseguito la sua rotta indisturbato il che, visto l'andazzo del 2020, non era così scontato, anche se tutti avevano rassicurato che sarebbe andata così però a un certo punto il dubbio ti viene, quindi questa sembra che ce la siamo sfangate In compenso però c'è una sorta di asteroide economico che sembra stia per abbattersi sull'economia degli Stati Uniti perché gli ultimi dati diffusi vedono un crollo del 5% del PIL nel primo semestre ma soprattutto le proiezioni ci dicono che nel secondo semestre potrebbe diventare qualcosa questo crollo fra il 30 e il 40% e cosa questo comporterà? Se le proiezioni sono realistiche è veramente qualcosa di non prevedibile Tuttavia i mercati ieri, nonostante siano stati diffusi questi dati, hanno avuto un rimbalzo positivo perché c'è un nuovo fattore in gioco, ovvero il fatto che sembra che stiano funzionando le cure sperimentate negli Stati Uniti per il coronavirus così come stanno dando anche buoni risultati, risultati incoraggianti perlomeno le cure con il plasma che invece vengono sperimentate con i pazienti italiani il plasma dei pazienti guariti Va bene, passiamo ad altro Ieri commentando le notizie relative alla fase 2 nei vari paesi ho detto che in Germania il numero di contagi è tornato a salire dopo l'allentamento delle restrizioni In realtà non è esattamente così e oggi alcuni articoli, ve ne lascio uno del post Sì, come al solito ovviamente trovate sulla pagina rassegna stampa d'Italia che cambia.org tutti gli articoli di cui parlo, ma questo penso ormai lo saprete se seguite la rassegna stampa da un po' Allora, alcuni articoli appunto di vari giornali smentiscono la notizia Praticamente il parametro R0, che sarebbe il numero di persone che ogni persona contagiata contagia a sua volta E ormai da diverse settimane si aggira, insomma, è inferiore ad 1 o comunque si aggira attorno all'1 È un po' risalito negli ultimi giorni, ma non si può parlare di risalita dei contagi perché finché quell'indicatore è sotto all'1 vuol dire che ogni persona contagiata ne contagia a sua volta meno di una Quindi che complessivamente l'epidemia è in recessione Anche se magari è una recessione lenta, però comunque i casi non stanno tornando a salire È un'informazione scorretta Quindi ci tenevo a puntualizzarla Altro caso su cui si sta dibattendo molto è quello invece della Svezia Prendo spunto sempre da un articolo del post Per andare a vedere un attimo cosa sta succedendo Perché il paese nordico è stato spesso criticato per aver preso pochissime misure restrittive In pratica le uniche restrizioni decise dal governo sono state quelle di vietare gli assembramenti da più di 50 persone Quindi tante persone L'ingresso ai musei e le manifestazioni sportive Poi sono state chiuse parzialmente alcune scuole, alcune università Però per il resto la vita va avanti come prima C'era anche un articolo del New York Times In cui due giornalisti inviati a Stoccolma Dicevano, notavano come addirittura le persone che girano con la mascherina Siano guardate un po' come degli alieni Quindi ecco, la vita fondamentalmente va avanti come prima Si esce, ci si riunisce, i negozi sono aperti E i messaggi del governo si sono orientati molto sulle precauzioni che ogni cittadino deve prendere Quindi soprattutto sull'importanza di lavarsi bene le mani E spesso lavorare da casa se possibile per chi ne ha la possibilità E rimanere il più distanti possibili nei luoghi pubblici In molti si aspettavano che, viste queste premesse, gli effetti sarebbero stati disastrosi Ma almeno per il momento i dati ci dicono che non è così Quindi danno ragione in qualche modo al governo I casi registrati infatti sono circa 19.000 con 2.355 morti Che in realtà non sono così tanti in un paese con 10 milioni di abitanti Se facciamo un parallelo con il Belgio che ha 11 milioni di abitanti I morti a causa del coronavirus in Belgio hanno superato i 7.000 Contro appunto i poco più di 2.000 della Svezia Nonostante le restrizioni siano state molto più estese E anche in generale il numero dei morti rispetto agli anni scorsi in Svezia Non è salito così tanto Quindi vuol dire che non possiamo attribuire il basso numero di morti Al fatto che siano stati rilevati poco Ma visto che anche il dato complessivo delle morti è di poco superiore a quello degli anni scorsi Significa che effettivamente il virus non ha avuto tutto questo impatto devastante Certo, allora bisogna puntualizzare alcune cose Ad esempio che la Svezia è un paese con abitudini sociali piuttosto diverse dal Belgio E ancora di più diverse se ci spostiamo verso l'Europa mediterranea Nei paesi nordici forse è un po' uno stereotipo Però è anche vero che il distanziamento sociale è un po' la norma Almeno rispetto alle nostre abitudini culturali Cioè sono culture molto meno avvezze al contatto fisico e ravvicinato Soprattutto con persone che non si conoscono così bene Con cui non si ha molta intimità E quindi può essere interessante paragonare la Svezia a paesi più simili A quel punto i numeri della Svezia sono effettivamente peggiori Di quelli degli altri paesi nordici A livello dell'andamento del contagio Perché se paragoniamo appunto la Svezia a paesi più simili per demografia e abitudini sociali Ad esempio in Svezia si sono registrate 22 morti ogni 100.000 abitanti Mentre in Danimarca sono state solo 7 In Norvegia e in Finlandia sono state solo 4 Però ecco al netto di tutto E ribadendo che non ha molto senso fare copia e incolla del modello svedese E portarlo ad altre parti Però il fatto che non c'è stato l'atteso disastro È un fatto e rimane Ed è qualcosa da studiare E sicuramente da cui prendere spunto Non per applicarlo identico da un'altra parte Ma per capire quali elementi di quel modello invece potrebbero effettivamente essere replicabili Va bene, torniamo a parlare di biciclette Ultimo argomento della giornata Perché ieri parlavamo del ruolo della mobilità su bici Che la mobilità su bici potrebbe svolgere in questa fase 2 E proprio ieri sera il Comune di Milano ha annunciato che entro il 2020 Anzi, entro settembre 2020 Quindi entro questo settembre Realizzerà 23 km di nuove percorsi ciclabili E dentro la fine dell'anno ne realizzerà altri 12 Quando uno dice Quando uno è un influencer No, poi basta che dici una cosa E poi subito il Comune di Milano ti segue a ruota Non è proprio così In verità l'ho annunciato la settimana scorsa Ma la notizia era riuscita solo ieri sui giornali Però, non lo so, cercavo un po' di darmi un tono Comunque, scherzi a parte Si tratta di un piano molto ambizioso Ma anche molto intelligente Perché è basato sul concetto di urbanistica tattica È un concetto che onestamente non conoscevo Però si pratica Si tratta di non fare grossi investimenti Per costruire magari piste ciclabili costose Che magari sarebbero pronte dopo anni e anni di cantieri Magari sarebbero pronte nel 2025, nel 2030 Ma si lavora molto rapidamente e a basso costo Ottimizzando quello che c'è già E in sinergia fra amministrazioni e cittadini Associazioni di quartiere e così via Che fra l'altro sono anche le persone Che conoscono meglio il territorio Spesso anche meglio delle istituzioni stesse Ad oggi qual è la situazione a Milano? Le piste ciclabili ce ne sono diverse Però sono ancora abbastanza frammentate Per cui l'idea è quello di creare collegamenti Fra le piste già esistenti E in parallelo di creare delle nuove dorsali ciclabili Facendo però degli interventi mirati Alcuni di questi percorsi Fra l'altro ricalcheranno il percorso della metropolitana Soprattutto nelle tratte più frequentate dai pendolari Perché c'è il timore fondato Che con le misure di distanziamento sociale Circa un milione di persone Potrebbe non trovare più spazio La mattina in metropolitana Per andare a lavorare Un milione di persone sono tante Il rischio è che ognuna di queste persone Prenda il suo mezzo privato E si muova con quello Quindi aumentando il traffico Ma anche e soprattutto l'inquinamento dell'aria Queste nuove tratte Come accennavo prima Non saranno delle piste ciclabili vere e proprie Ma saranno spazi riservati alle bici O comunque più sicuri per i ciclisti Nelle strade già esistenti Per cui ci saranno delle corsie Che saranno sottratte alle auto Oppure in altri casi Semplicemente si ridurrà di molto il limite di velocità Su alcune strade Per renderle più sicure per i ciclisti E insomma sono misure di questo genere Che non comportano appunto Costi molto alti O cantieri lunghi mesi o anni Fra l'altro La buona notizia è che Anche se Milano è stata la prima città in Italia A adattare misure del genere In realtà questa cosa sta succedendo Anche da tante altre parti Ci sono altre capitali europee Che addirittura stanno prendendo Misure ancora più ambiziose Leggevo del progetto di Parigi Che vuole aggiungere 650 km Di nuovi percorsi ciclabili Entro maggio Come questo si reali estico Non lo so Non l'ho onestamente approfondito Ve lo lancio se volete Come stimolo Se magari volete andarlo Anche a approfondire voi Magari noi ne parliamo Nei prossimi giorni Comunque Niente Abbiamo anche oggi Spurato 10 minuti Quindi io vi saluto Se vi do appuntamento Se non sbaglio Non a domani Che se non sbaglio Il primo maggio Quindi direi A lunedì E niente Come ogni giorno Chi si rassegna È perduto Ciao Ciao